rischiano di appartenere a una banda o all'altra e i quali invece sono estranei. E allora abbiamo fatto fare al sistema il grafo di tutti e mille e cento i soggetti e il sistema ci ha disegnato con certa probabilità che i rosa appartengono alla banda dei rossi che vedete e i sian appartengono alla banda dei blu e i grigi invece non si capisce se appartengono o non appartengono. Conclusione, nell'estate di quello stesso anno sono state arrestate in quella zona 150 persone sulla base di questo grafo. E' apparso anche sul Tg2 in maniera... Altro argomento, individuazione delle anomalie. Che vuol dire? Noi a livello visivo se vediamo una catena montuosa con una castruzione abusiva immediatamente l'occhio ci casca. Perché? Non è che varia la media di qualche cosa. No, è che la geometria inerente alle montagne è completamente diversa alla geometria intrinseca in una casa. E quindi, stonando, l'occhio la fissa. Perché per la nostra evoluzione da cacciatori questo poteva essere un pericolo, un cambio di geometria. Noi abbiamo tentato di fare lo stesso, questa è la pubblicazione scientifica fatta su una rivista dell'Alto Impact Factor. Abbiamo preso le richieste di fondo sanitario di un fondo che è Faschime, si può dire, è pubblica la cosa. È il fondo chimici, il fondo sanitario di chimici di Confiduzia. Loro ricevono centinaia e fanno centinaia di rimborsi. Hanno preso due, in dieci anni, due truffe, chiamiamolo, o inappropriatezze. Del tipo, ma è possibile non avendo casi di truffe, perché due su centomila non sono un campione, no? Capire se c'è qualcosa che vale la pena di approfondire su alcune richieste. E abbiamo proceduto, abbiamo costruito tre sistemi di reti neurali diverse che si parlano tra loro. Vado veloce per non appesantire. Una doveva fare il clustering, trovare quelle richieste che si assomigliavano. La seconda doveva capire quali erano quelle richieste che stonavano con le geometrie di richiesta delle altre. La terza doveva capire, viste quelle che stonano, fai un grafo che ci metta vicino tutte le richieste. In modo che quando veniamo molte stonate insieme sappiamo che è una truffa organizzata. Non so se ho reso l'idea. Abbiamo usato questi strumenti tecnici che abbiamo ideato noi, tranne uno. Questo è il sistema, scusate ma, questo è il database delle richieste. Entra in una rete neurale che dice come sono simili le une alle altre. Centinaia di migliaia di richieste come sono simili. Vedete, più la palla è grossa più ce ne sono capitati in quella matrice di simili. Va bene? Questo viene, sono tutti i mondi possibili che sono possibili da questo database. Tutte le richieste possibili tipizzate. Un'altra rete leggendo quello impara e poi giudica ognuno di questi record dicendo quali sono strani. E li mette lì. Un'altra rete vede quel sistema e costruisce un grafo in cui in rosso vedete quelle che sono dalle truffe alle anomalie. In verde quelli invece economi, in blu quelli che hanno un comportamento legato alla norma. Ok? Scusate la brevità. Ed ecco, questo è un caso, spero che sia tutto coperto perché è una reale. Come vedete qui si tratta, quelli vedete il numero, sono le polizze di quelli che secondo il sistema hanno fatto richieste diciamo inappropriate. Diciamo inappropriate. Tenete presente che quando compagliono vicine significa che probabilmente se le sono copiate uno con l'altro. Come vedete il primo sistema, quello che vedeva le cose tipiche e atipiche, vedete qua, scusate, qua, forse gliela facciamo, qua ce ne sono pochissime, questo è atipico, no? Ma che è atipico non significa che è sbagliato. Questo è molto frequentato, molto tipica, perché ce ne sono molte, 85 di questi tipi di richieste simili. Non significa che è giusto. Il sistema infatti ci mostra che qui, che ce ne sono sette, due di queste sette sono inappropriate. Qui che ce ne stanno altre sette, due sono inappropriate. Qua che ce ne stanno dieci, solo una è inappropriata. Quindi non bastava usare una rete per capire chi è simile a, ma dopo aver fatto questo una rete che capisse chi fa le somme sbagliate, in altre parole. Dopo aver capito quali sono le somme giuste. La cosa curiosa è che se io faccio vedere con l'altra rete gli importi, questo più grande è il rombo, più è grosso l'importo che si richiedeva, medio, vedete che i cerchiati, cioè quelli inappropriati, sono sia quelli per piccoli importi che per grandi importi, cioè il sistema non è stato viziato dalla dimensione dell'importo nel capire le anomalie. E alla fine, ed ecco, questi in rosso sono quelli che sono inappropriati. Sappiate che queste persone sono state verificate e si è trovata la frode. Dice, su quante? No, su tutte, su queste, siamo stati fortunati allora, però su tutte. Budget delle unità sanitarie locali. Allora, qui ci abbiamo, mettiamo che abbiamo delle ASL italiane, soltanto il conto economico, ma quello draft, cioè quello rozzo, il fatto di 401 voci di spesa. Allora, la domanda è, se io analizzo e faccio apprendere a una rete le 400 voci di bilancio di tutte le ASL che gli metto a disposizione, lui riesce a capirmi dal conto economico quali ASL si comportano in maniera simile o diversa da altre e come dal conto economico riesco a comprendere il funzionamento di ogni ASL? Ok, questi sono i macro settori di un conto economico, vedete? Questo è un conto economico ridotto a numeri, cioè il codice in nero e la spesa in rosso. Questi sono 12 conti economici, questo serve a dire, guardate, anche con 12 conti economici, con la matematica anche più avanzata, non gliela fate a capire, perché il numero di dimensioni è uno spazio a 353 dimensioni. Bene, quale ASL hanno i conti economici simili? Tutto quello che vi ho fatto vedere, tranne quella cosa sulla criminalità, è pubblicato sulle riviste scientifiche, vedete qui addirittura due articoli. Abbiamo usato sempre una nostra rete, vi salto, abbiamo un sistema anche per sapere quanto questa rete è stata brava a ricostruire il dato, questa è la pubblicazione dell'indice che utilizziamo su Fisica A, che è una rivista di prestigio. Risultati? 66 ASL avevano a disposizione, perché altri dati non è stato possibile prenderli, tutto a livello volontario questo è stato fatto, e 5 erano le regioni, 353 voci di bilancio, perché alcune non avevano alcune voci delle 401. In rosso il sistema che è risultato più credibile nel ricostruire la situazione. Lombardia e Veneto. Ora i colori li abbiamo messi dopo, cioè il sistema ha detto, guarda esistono due cluster, tutte le ASL di un tipo e tutte le ASL di un altro, noi abbiamo messo i colori del Veneto e della Lombardia, abbiamo scoperto che la Lombardia, tranne una ASL, la Val Camonica, è perfettamente integrata, e il Veneto è un altro sistema perfettamente integrato a livello di budget, cioè il conto economico è coerente per la Lombardia e coerente per il Veneto, sono diversi. La cosa interessante è la Val Camonica, se vedete questa proiezione di multidimensional scaling, vedete che la Lombardia è bella compatta, cioè tutti i conti economici della regione Lombardia sono belli vicini gli uni agli altri. La regione Veneto invece è piuttosto sparpagliata sul diagramma, ognuna fa un po' a modo suo, anche se tra loro si assomigliano più tra di loro che non a quelli della regione Lombardia. E vedete la Val Camonica che invece sta per conto suo in mezzo a un gruppetto di Venete. Facciamo la stessa cosa tra la Lombardia e l'Emiliano Magna, lo stesso sistema è quello migliore, ed ecco anche qui ci viene la stessa cosa, ci viene la Lombardia da una parte, ricordate sono state colorate dopo che il sistema ha fatto i grafi, e la Val Camonica sempre che appartiene più alla Lombardia che non. Andiamo a vedere nel multidimensional scaling, questa volta questa era Lombardia, scusate, questa era Lombardia bella coesa come al solito, l'Emiliano Magna è meno sparsa del Veneto, ma la Val Camonica questa volta non è più vicina all'Emiliano Magna, è un po' lontana da tutti, è isolata, è un outlier. Lombardia e Lazio, andate a vedere, questa volta la Lombardia rimane un sistema integrato, nel Lazio ognuno va per fatti suoi, non fa sistema, cioè il conto economico, il modo di redigere il conto economico delle AS del Lazio, ognuno lo fa a sentimento suo, e la Val Camonica sta sempre in questa posizione, si vede bene questa volta che la Lombardia rimane compatta, le AS del Lazio si distribuiscono in maniera autonoma, la Val Camonica è più simile a come si comporta il budget della AS di Rieti, che è completamente isolata rispetto a quella del Lazio, con la Campania stesso fenomeno, e ovviamente le AS del Campania non sono organizzate, ma questa volta anche la Val Camonica, vedete, si rifiuta di stare nel cluster sbagliato e va nel cluster giusto. Ecco, vedete che sta qui isolata da tutto quanto. Vediamo, facciamo apprendere dal sistema tutte e 66 le AS insieme, ed ecco il grafo che ci mostra. Come vedete, ha separato la Lombardia in maniera completa, proprio per fatti suoi. Vedete che non è connessa. Mentre mostra come il Veneto si è diviso in due cluster, un cluster che comunica con l'Emilia-Romagna e con il Lazio, e un altro che invece comunica con altre dell'Emilia-Romagna, qui in basso, e con il Lazio. Ecco qui. Andiamo a vedere quanto si potrebbe con questi sistemi risparmiare sulla spesa sanitaria. Allora, stesso dataset, obiettivo diverso, le anomalie di spesa. Abbiamo usato una rete, vogliamo vedere il filmato della rete che apprende o non vi importa? A pochi secondi. Questa è la rete, vedete l'errore scende mentre lei apprende. Vedete che sono 353 input e si stanno tarando tutte le connessioni. Quello è l'input in rosso, l'output in giallo e le unità nascoste che sono il suo cervelletto. Facciamo soltanto i pesi e poi chiudiamo questo. Ecco, queste sono tutte le connessioni che si stanno creando. Una volta che ha appreso, un altro sistema legge i risultati di quella rete e lo mostra come grafo. Eccolo qua. Tutti i 350, le voci di bilancio che si stanno organizzando. I nodi che compaiono vicini, legati vicini, significa che si comportano in maniera simile. Ok, questo va bene, viene fuori un grafo. Allora, che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'analisi esterna, detto ok, la regione Lombardia è quella che ha il bilancio in pari. A quel momento, 2010 questi sono i dati. Benissimo, allora, prendiamola come gold standard e facciamo un esperimento. Questo spiega il what if theory di cui parlavo all'inizio. Facciamo apprendere la regione Lombardia. Poi forziamo la rete a vedere come modificherebbe i budget di ogni altra ASL se dovesse appartenere alla logica dei conti economici della Lombardia. Ecco qui, abbiamo verificato che apprendendo le 15 ASL della Lombardia la rete approssima al massimo 50 euro o 2 euro in meno. Questo è il massimo dell'errore, sopra o sotto. Quindi è stata molto brava, ha capito molto bene come si comporta il conto economico di queste ASL della Lombardia. A questo punto abbiamo detto, e siamo andati adesso per macro aree per farla breve, benissimo, vediamo come questa rete ridifinirebbe la spesa per utente proporzionata alla popolazione di ogni ASL dell'Emilia Romagna. Allora, vedete che Piacenza spende 1,99 moltiplicato per mille, sono quasi 2.000 euro a persona, se fosse in Lombardia spenderebbe 1,3 e la stessa logica potete seguirla. Questo ci porterebbe a un risparmio del 26% sulle spese di queste ASL, se seguissero la stessa logica. Voi adesso avete visto soltanto eccessi, ma andiamo un attimo al Veneto. Riscrivendo le ASL del Veneto, voi potete vedere che Belluno che spende 2,2 andrebbe a 1,3, ma ASL che spende 1,7, secondo la logica Lombarda dovrebbe spendere 2,5. Quindi vedete anche qui, Padova spende 1,9, potrebbe spendere 2, siamo quasi in linea potremmo dire, perché dovete considerare un 50 euro di errore. 50 euro e non nel 700, quindi un po' c'è la differenza. Poi abbiamo visto il Lazio, abbiamo fatto riscrivere secondo la logica Lombarda le ASL del Lazio e qui vedete delle cose interessanti dal punto di vista anche filosofico, se volete. Perché vedete che la ASL RMF che spende 1,5 dovrebbe spendere 1,6, mentre la ASL RMF spende 3.000, potrebbe spendere 1,3 secondo la logica Lombarda. 56% di spesa in più. Questa è un'indicazione, non è una prova, è un'indicazione che se devo andare a esaminare certe situazioni, vado a caso o mi faccio consigliare quelle da andare a esaminare? Perché anche nel caso della criminalità i sistemi non forniscono prove, forniscono agli investigatori suggerimenti per poter approfondire e eventualmente trovare delle prove. Vabbè, questo abbiamo chiesto poi al sistema di dirci quali sono le ASL che spendono più in lavanderia. Invece di dire i dealer nei quali puoi trovare più cocaina, dici quali sono le ASL che spendono più in lavanderia. Forlì, Cesena, Imoli, Belluno. Ravenna, Piacenza, Rovigo, eccetera. Massimizzare i costi delle consulenze? Ci viene detto. Rieti, Forlì, Belluno, Cesena, Rovigo, eccetera. Massimizzare i costi delle pulizie? Val Camonica. Adesso ci spieghiamo qualche cosa. Forlì, Imola, Belluno, Cesena, Treviso. Sono sempre le stesse, se fate conto. Massimizzare i costi per la manutenzione? Stessa storia. Altro argomento. Frane. Il problema delle frane è, se ho dei sensori che sono in grado di monitorare gli spostamenti del tempo di ogni punto, dei punti che ritengo salienti di un fenomeno che può essere franoso, non sono in grado soltanto dai sensori di capire che cosa sta succedendo, perché tutto nella Terra si sposta. Noi andiamo verso l'Albania a 5 cm all'anno. Per cui, un sistema che usa questi pillar, cioè questi sensori, e che li segue nel tempo per vedere come si spostano sulla X, sulla Y e sulla Z, deve essere interpretato da un sistema matematico potente che ci dice qual è la forma di tutti i punti che non sono monitorati, visto che quelli che hai monitorato si spostano in quel modo. In questo modo posso capire la forma della frana, le torsioni e anticiparle. Ecco, questo è un esempio. Se vedete questi punti rossi che si spostano verso l'esterno, con i sistemi tradizionali si ha una griglia di questo tipo, completamente inattendibile. Con il sistema Twisting, che è un sistema brevettato nel 2010, e poi di nuovo quest'anno, si avrebbe una forma di questo tipo. Ma andiamo al solo. Questa è Craco. Quest'operazione è stata fatta nel 2010 sotto supervisione dell'Asi. Questi erano... stava franando Craco, come sapete. Questi sono cinque punti presi come riferimento, e il sistema ha ricostruito questa forma. Queste che vedete in bianco sono le accelerazioni, quelle che vedete in nero sono dove si ferma la frana, i punti di accumulo di energia potenziale. Queste curve sono state verificate con un'approssimazione di tre metri più o meno dall'Asi a Matera, quell'Asi di Matera, nel 2010. Craco. Questa è la mappa dei geologi. Vedete in rosso la frana attiva, in marrone la frana vecchia, diciamo, e il resto. Volete vedere come il sistema ricostruisce step by step i primi momenti della frana? Eh? Ok. Questo è il nostro software di ricerca. Ecco qui. Vedete, questi sono i 26 punti. Questi 26 punti sono stati monitorati per 52... sono 52 punti che sono stati monitorati per 26 volte nel tempo. Ecco, vedete, il sistema comincia le prime forme. Vedete, sta correndo e comincia a definire le prime forme. Facendo spostare i punti, si porta appresso, facendo interagire ogni punto della griglia con tutti gli altri. E in questo modo, vedete, lui non sa niente della geografia del posto. C'ha soltanto ogni punto come si sta spostando nel tempo, a ogni step. E vedete che si sta formando una catena montuosa, che lui non sa che c'è, ma noi sappiamo che c'era lì. Perché, non ve la faccio lunga, ma dal punto di vista matematico, se io ho un chiuso e nel chiuso ho un aperto e un chiuso, dato il chiuso più interno, so anche come è fatto l'aperto. Non è facile, ma si fa. Ecco. Vedete che sta costruendo la forma della frana? Ve la interrompo qui, poi casomai vi lascio il filmato. Però è questo che viene fuori. Eccola qua. Vedete l'originale di Claco e il sistema ricostruito. Vi faccio notare una cosa. Vedete questa strada qui? Che si era fermata. Guardate, lui la continua e fino a qua sappiamo che è giusta. Tra l'altro. Poi, se mi volete chiedere come si fanno questi conti, apriamo un capitolo a parte, perché sennò mi fate apparire magico in certi momenti e purtroppo per essere veloce. La cosa interessante, vediamo questo grafo. Vedete che i punti della frana che lui ha identiato sono quei due gialli. Dove c'è il massimo bianco c'è il massimo di energia cinetica. Dove c'è il nero c'è il massimo di energia potenziale, cioè accumulata. Ecco qui il grafo. Guardate come ha ricostruito due subsidenze. Vedete questo giallo qui? Eccola qui. Questo è il grafo reale. Questa è la mappa reale. Quest'altra, grande subsidenza, eccola. La cosa interessante è che, se guardate la mappa che ha costruito lui, avendo solo i punti, e la mappa reale, potete vedere che ha ricostruito dei bordi, che lui non sapeva che c'erano. Ora, vedete questa freccia gialla e la riportate qui? È esattamente il bordo della frana inattiva. E anche questo punto qui, vedete questa forma? Eccola qua. Ecco la frana inattiva e la frana attiva, a confine. Quindi il sistema è stato in grado di riapprossimare la forma della frana soltanto a partire dai pochi punti che venivano monitorati nel tempo. Si chiama Twisting Theory. Qui è stata applicata la frana lenta di Assisi, Ivancic, monitorata dal 1995 al 2005 con 13 punti sensori d'osservazione. questo è interessante perché ci siamo posti il problema, ma visto che ricostruisce così bene la forma della frana, è in grado di prevedere lo step successivo dove andranno a muoversi i sensori? E questa è la verifica. Vedete la X e la Y sui 13 sensori, in blu la realtà, in rosso la previsione. Praticamente sufficientemente buona. Ma allora ci siamo chiesti, ma sei in grado di capire anche come si sposteranno di step 1 qui i sensori? Sarai in grado di costruire anche la forma della griglia allo step successivo, cioè quello che non ha? Allora abbiamo fatto, gli abbiamo dato i primi tre strep per farlo capire. Abbiamo ottenuto il quinto step nascosto e abbiamo visto come lo ricostruisce. Questo è il quinto step, quello che vedete a destra. E lui l'ha ricostruito in quel modo, in maniera cieca. Come vedete i tratti salienti ci sono tutti. Ovviamente ci siamo posti anche il problema di capire i relazioni causa-effetto, ma c'è un sistema in grado di capire le relazioni dinamiche di causa-effetto tra come si muovono i vari sensori? E questo è il sistema CCA, anch'esso brevettato. Questi sono i brevetti. Lo vedo rapidamente. Assisi. Ecco, qui vedete la mappa fatta dai geologi. In rosso è quanto si è spostato nel tempo, alla fine del processo, ogni sensore. Ok? Ecco. E qui vedete, scusate, il grafo causa-effetto. Lui dice il centro di tutto è il P13, cioè il P13 è questo. Come vedete è quello fondamentale, secondo il geologo. Il P13 provoca il P8 che ritorna a provocare, a muovere il P13. Ma è il P13 e questo è il P8. Eccoli qua. Questi dialogano tra loro, secondo il sistema. il P13 trascina il P11. Eccolo qua. Vedete? Il P13, che è questo, trascina il P11. Insomma, c'è il grafo di tutte le relazioni causa-effetto più evidenti che si sono dinamicamente instaurate tra i sensori che monitoravamo. Questa è la stessa cosa su Corvara. E qui Corvara ci dice, guarda, il punto centrale è questo, il 52, il quale poi c'è il 16, molto importante, perché c'è tutta questa catena di eventi. Vedete con le frecce che sono orientate da qui in giù. Andiamo a vedere sulla mappa sia il 52 sia il 16, ma anche questo, il 50, guardate, che ha degli effetti. Ed eccoci qua. Questo è il 52, il punto più veloce della frana, più la frecce è grande per i geologi, più è la velocità della frana. E guardate, questo è il P16, cioè lui spinge questo e questo spinge a sua volta tutta la frana. Questo che stava in alto viene trascinato da questo, perché vi ricordate la relazione era questo causa questo, cioè lo trascina in questo caso. E l'antagonista è questo, che era stato individuato dal sistema, cioè un'altra frana che blocca e impedisce che questa frana venga da questa parte. La stessa cosa l'abbiamo fatta con Craco, ed è simpatico che nel nostro modello verificato dall'ASI il centro abitato che era qua agisce sul fuori frana, cioè il fuori frana è stato messo come punto di controllo dall'ASI per vedere gli spostamenti relativi degli altri. E invece viene subito coinvolto nel nostro modello, dopo il fuori frana agisce sul muraglione, agisce sulla scuola e il muraglione agisce sul palazzo Cammarata che è un palazzo storico che sta franando per avere alla fine questa situazione. In termini grafici avviene questo. Questo tipo di relazioni di caso-effetto sono state verificate dall'ASI al momento giusto. Previsioni di mercato possono interessare? Ci siamo posti il problema, sì, ma non credo dal punto di vista della Repubblica, ci siamo interessati a capire se vedendo una serie storica attualmente il problema delle serie storiche per la previsione si fanno da anni con sistemi lineari e non lineari ma il problema sono i punti critici detti i cigni neri cioè quando qualcosa sale e poi scende. Allora è facile prendere una cosa che sale e sale perché sbagli una volta e c'ha la seconda o scende e scende ma una cosa che c'ha un punto critico cioè una derivata zero cioè fa così o un massimo o un minimo prima sale e poi scende è un segno estremamente importante a livello speculativo o per comprendere la dinamica di un fenomeno. Questo è un titolo che non posso nominare ma guardate che andamento ha è un indice a dire la verità cioè è un indice è un indice ci abbiamo soltanto i valori open high low e close e il volume è scambiato ogni giorno con un sistema riusciamo a stabilire qual è la finestra temporale ottima dopodiché riscriviamo il database e vogliamo prevedere l'apertura del giorno dopo oppure il valore più alto del giorno dopo oppure il valore più basso o tutti e tre insieme abbiamo diviso il campione in training prima e in un testing dopo guardate il testing sono 1300 giorni significa 4 anni e passa cioè la rete apprende per circa 7 anni e poi per 4 anni come dire indomina in cieco ecco il testing e il training vedete sono molto diversi questa è la rete se volete se volete vederla a livello autobiografico vi fa piacere ecco questo è il nostro software questa rete con una rete deep vedete tre strati di unità nascoste quello che si chiama adesso di moda deep learning ok vedete che sta apprendendo vedete che si muovono gli input si modula anche l'output va beh la faccio breve se no ecco qui far vedere che il titolo varia da un momento all'altro da un giorno all'altro di molto alla fine praticamente l'apertura del giorno dopo il trend lo indovina all'88% mentre il valore più alto del giorno dopo lo indovina al 63% come trend cioè che rispetto al high precedente cresce o decresce questo significa vincere circa nel 70% del mondo